È un convegno sulla ludopatia, quello in programma in sala consigliare a Martinsicuro, per un problema di cui si discute sempre forse troppo poco rispetto all'importanza e all'impatto sulla cittadinanza. È un tema attuale, è un tema ambizioso, è un tema che l'amministrazione tiene particolarmente. Io con la Delegale Politiche Giovanili ho voluto svolgere una serie di incontri, tra cui questo incontro, questo convegno legato alla ludopatia è un monito di sensibilizzare i cittadini, ma non solo i cittadini, ma anche gli stessi colleghi amministratori sul tema. Spero che domani sera la presenza di non solo amministratori locali del territorio, ma anche di tavoli o di ambienti ben più in alto. Spero che poi il risultato di questo incontro possa essere un punto di partenza per sviluppare progetti, non solo a Martinsicuro, ma un po' su tutta la vallata e su tutto il territorio. I dati che arrivano anche da parte della Regione Abruzzo su questa problematica sono decisamente allarmanti. Sì, in comitanza con il nostro convegno, poi è uscito l'articolo un po' della Regione, che sta svolgendo una serie di test sul territorio, tra cui fa parte anche il Comune di Martinsicuro. Questo ci porta l'attenzione a dare ancora più valore al progetto, quindi al tema che affronteremo. Io spero che con la parterra dei relatori che ci saranno domani sera, si possa tirar fuori sensibilità e anche proposte concrete, soprattutto per il territorio, che non vuole essere un monito nella risoluzione o nella cura dell'azzardo, però un modo per dare ai giovani, ma anche ai meno giovani, un punto di riflessione. Ecco, un punto di riflessione, diciamo.